Cerca l'anticipo, Premier poi è servito e nel semi gancio Magnifico realizza. Kiccianovic fuori per Silvester che va al tiro frontale, avversario. 19 scavolini, 12 billi. C'è un palla recuperata da Magnifico dopo che Silvester aveva fermato Premier al tiro. Bellissimo canetto di Kiccianovic. Sette punti per lui. Quindi cambio difensivo quando mancano dieci minuti al termine del primo tempo da parte della Belli. La Belli è passata alla zona 2-3 mentre sta attaccando la scavolini con Kiccianovic. Fuori per Zampolini, in angolo per Silvester. Va al tiro tranquillamente Silvester ma è corto. Rimbalzo di Zampolini e realizza. Zampolini avversario, 25 a 14. Ecco l'attacco della scavolini con Kiccianovic avversario. Penetra, penetra sempre in qualsiasi posizione. Kiccianovic. Scavolini in attacco con Silvester. Va al tiro Silvester avvitandosi. Poi è Bui che recupera e realizza. Rimbalzo offensivo sia Bui che Magnifico. Anche in questa occasione erano pronti a catturare questo rimbalzo offensivo. Ci ha pensato Bui andando avversario. 15 punti di vantaggio per la scavolini-Pesaro. Stop a Bui. E Zampolini che lancia Kiccianovic in contropiede avversario. Sta dilagando la scavolini. 37 a 20. Ecco che Kiccianovic ha avuto la meglio. Bui sotto, schiaccia letteralmente a canestro. Contropiede della scavolini con Kiccianovic a bersaglio. In questo momento il Dili sta riscando proprio veramente il neofrago. Lo stesso D'Antoni sembra non avere le idee, nemmeno lui più chiare. Ha perso palla in maniera banale per lui. Kiccianovic arreste, tiro dalla lunetta, bersaglio. 19 punti per Kiccianovic. 51 a 26. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo. C'è tiro di Giannelli. È sbagliato il rimbalzo di Kiccianovic. Palla Zampolini. In entrata Zampolini realizza. Pubblico entusiasta. In piedi 53 scavolini. Billi 26. Gallinari è al suo secondo fallo. Rimessa in gioco effettuata e Kiccianovic in possesso di palla. Cerca il blocco di Bui. Va al tiro, Kiccianovic a bersaglio. Primi due punti del secondo tempo per la Scavolini. Portano la firma di Kiccianovic. Quindi un altro attacco della Scavolini. Quindi Silvester serve Bui. In taglio, Zampolini è in schiaccia. Due minuti e mezzo giocati e con magnifico Kiccianovic. Cambia direzione Kiccianovic. Va in entrata. Realizza ma non viene concesso. Sembra divertirsi Kiccianovic. Beh, in effetti direi proprio di sì. Forse anche questo scontro con D'Antoni sembra averlo un pochino esaltato e sta tirando fuori tutti i numeri dal suo cappello di prestigiatore stasera. Ecco ancora Kiccianovic in possesso di palla. Sfrutta il blocco di Bui. Va al tiro, sbaglia. La palla è ancora alla Scavolini ed è Silvester che alla fine la riesce a recuperare. Cambia direzione Silvester. Va al tiro. E' ancora realizza l'entusiasmo del pubblico per questa acrobazia di Silvester. Scavolini 63, Billy Milano 32, doppiato quasi il Billy. Kiccianovic. Palla fuori a Silvester. Va al tiro in acrobazia. Silvester compie un altro capolavoro. Al tiro. E' sbagliato. Ancora un anticipo di Silvester su Giannelli. Silvester. Bellissima questa palla per Kiccianovic. Realizza Kiccianovic. Si esalta Silvester per questo passaggio che egli stesso ha effettuato al Mago di Pesaro. Ormai viene chiamato così. Silvester affrontato da Premier. Va al tiro e realizza ancora un canestro in acrobazia. 12 punti per lui. 73 a 39. Ecco Silvester. Al tiro a bersaglio. Prolungato palleggio di Zampolini. Servito Silvester. Valtiro e Silvester realizza. Bui. Palla a Zampolini che schiaccia. Lotto a Bui. La palla è a Benevelli. Il capitano biancorosso si arresta. Servito Ponzoni. Fuori ancora per Benevelli. Cerca l'entrata. Poi va al tiro e realizza il suo primo tentativo. Benevelli va a segno. Perde palla la Billy e Silvester. Servito Zampolini. Cerca l'entrata da sotto. Sbaglia. E Bui che recupera. E Bui realizza. 86 a 51. Ponzoni in palleggio. Bui. Ancora fuori per Ponzoni. In angolo per Silvester. Attaccato da D'Antoni. Palla Benevelli. Può andare al tiro. E Benevelli va a bersaglio. 6 punti per Benevelli. 94 a 55. Alla meglio premiera. lancia D'Antoni in contropiede. E sbaglia clamorosamente D'Antoni. Questo contropiede. Giumbini in entrata. Realizza Giumbini. 98 a 57 il punteggio. Benevelli per Bui. Palla a Ponzoni. Gancio di Ponzoni a bersaglio. 34 secondi da giocare. Giumbini. Palla per Carboni. 10 punti per lui. 110 a 65. Mentre c'è tiro di Giannelli. Lo sbaglia. Termina l'incontro. Proprio sul punteggio. Vedete il tabellone. Scavolini. Scavolini 110. Billi Milano 65.